Uno è un urlo, poi lo facciamo parlare, dai fate sentire che ci siete! Allora, ciao Alvaro, ti stavamo aspettando, per noi è un vero piacere averti qui, insomma stai avendo un grandissimo successo, un cantante davvero internazionale, che effetto ti fa tutto questo calore del pubblico, una grande soddisfazione? Ma prima grazie per tutto perché siamo qui fuori in realtà e fa una giornata di merda, ma grazie a te! Però grazie perché è scaldante tutto questo ambiente, allora è molto bello di vedere questa energia, di aspettare così tante ore, grazie mille, facciamo tutto allora!